L'ordine pubblico è una titolarità delle forze dell'ordine, non del sistema sportivo. È molto chiaro il presidente della FIGC Abete a Pisa in un convegno dal titolo Fede Calcistica e Sport allo Stadio. La titolarità dell'ordine pubblico non deve ricadere sulle società di calcio. Il mondo sportivo deve fare la sua parte, deve naturalmente effettuare sempre un'azione di maggiore contrasto, ma quando parliamo di ordine pubblico parliamo da cittadini di una titolarità che è in capo al Ministero dell'Interno e alle forze dell'ordine. E il prefetto di Pisa Tagliente, che tra l'altro da quest'ora si occupò molto della sicurezza negli stadi a Firenze, chiede di non focalizzare l'attenzione su quello che è accaduto nella finale di Coppa Italia-Napoli-Fiorentina. Noi sappiamo che la stampa estera ha parlato anche del modello italiano e quindi è necessario non giudicare tutto quello che è accaduto in una giornata, non azzerare l'impegno, il sacrificio di tanti per riportare le famiglie allo Stato. Non possiamo dimenticare che ci sono stati anni nei quali non si è verificato un solo incidente allo stadio e sono spostati e portati i bambini sugli spalti. E Tagliente dice che dobbiamo riportare i bambini allo stadio. E per farlo è necessario essere intransigenti, determinati nei confronti di chi si pone contro quei ragazzi, contro i tifosi, contro i bambini, contro le famiglie, contro i club, contro la società. Non sono i poliziotti gli avversari perché sono strumento. Quando vengono attaccati i poliziotti l'attacco al poliziotto è strumentale. E quanto, voglio dire, ha operato anche all'interno della città di Firenze, come in altri contesti territoriali, per far sì che ci sia una migliore fruizione dell'evento sportivo.